Ore 14.50, i compagni Ivorabei hanno aperto una breccia alla Golena San Massimo. Le mura di Padova sono conquistate. Dove saranno Ivorabei in questo momento? Ah, saperlo, saperlo, anzi, eccoli! Eccoli che spuntano, puntuali con le sempre, puntuali con la rivoluzione. Eccoli, sono qui fra noi. La formazione è immutata, la Pepsi Candabuccio, la Spirito Provin, Macramè Allai, Omero Sentina e Walter Popier. Adesso fanno ampi gesti, vogliono andare da un'altra parte ma non si capisce dove vogliono andare. Lai, qua, qua, vieni qua, sì, qua dritto! Ok, la via è indicata. Sì, sì, qua dritto è questa. Ci mettiamo qua intanto. Eccoli che arrivano, ancora pochi colpi di reni. E poi il ritorno di Ore d'Obrio sarà completato, o meglio, completato. Insomma, siamo quantomeno agli amici del piologo. Beh, dopo vediamo o no, intanto adesso la mettiamo qua. Dopo telefoniamo a Uliana e sentimo. Fatevi vedere, me lo fate? Un saluto con Remo oppure... Non alzaremi, me lo fate? No, non te lo facciamo, lo faccio solo io. Beh, dai! Non è che mi sto lavando, dai! Già così, bravissimi, bellissimi, va bene che così. Grazie a tutti.